Intervistiamo le ninfe della Tamora che hanno appena concluso il loro concerto. Allora, l'esponente del gruppo è Serena della Monica. Serena, ma come mai questo progetto al femminile? Il progetto al femminile nasce innanzitutto da un'amicizia che ci legava da un bel po' di anni e quindi siccome siamo tutti musicisti abbiamo deciso di mettere insieme un po' le nostre esperienze musicali e di raccogliere intorno alla nostra tradizione musicale che poi è quella che nasce in campagna, la Tamorriata, è fare un viaggio nelle terre del sole. E ho sentito del vostro ultimo album, me lo puoi raccontare? Perché ho sentito prima, mentre parlavi del progetto... Scaramantrica è l'unione di due termini, scaramanzia e il mantra. La scaramanzia che fa parte della storia delle tradizioni del sud, quindi la magia, il folklore, tutto quello che c'è. E il mantra che è questa preghiera indiana che ha la caratteristica di essere circolare, che ritorna sempre. La circolarità alla fine è quello che caratterizza i nostri strumenti musicali, le nostre tamorre, le nostre preghiere. Quindi abbiamo messo insieme il tutto, il sacro e il profano per far nascere questo nuovo progetto. Certo, lo esprimete anche al meglio mentre cantate e ballate. Avete progetti per il futuro prossimo? Tra le collaborazioni importanti, a parte che siamo tornate qualche giorno da Bucarest, siamo stati rappresentanti italiani di un festival a Bucarest del folklore. E abbiamo un progetto di un etno-latin project con i Farias, che sono chitarristi argentini che hanno scritto anche per Gigi D'Alessio, Natalia Estrade. Stiamo facendo un progetto mischiando le nostre sonorità con quelle che poi sono quelle latine dei Farias. E abbiamo scritto una canzone insieme a Davide De Marinis, un noto cantautore italiano, quindi che a breve sentirete come singolo. E da quanto tempo state insieme tutte e quattro? Diciamo che questa formazione è un po' più nuova, però il gruppo nasce nel 2007. Diciamo che tu sei il portavoce del gruppo. Sì, il gruppo è mio, diciamo nasce a Vietre sul mare, però poi oltre alla parte femminile c'è da dire che c'è una parte maschile che insomma ci supporta. Già Marco Volpe ci supportano, Amleto Livi e Pasquale Benincasa che sono rispettivamente il violinista, il chitarrista e il percussionista del gruppo. Ce le puoi presentare le altre? Certo, allora Carlotta Davino, Mariana Somma, Sara Schiavo. Io vi auguro tanto successo e tanta fortuna per i prossimi periodi e poi un'ultima domanda, ma come mai vi chiamate le ninfe della Tammur? Allora, le ninfe perché le ninfe erano le prime figure femminili che seguivano i cortei del dio Dioniso ed erano le prime figure con i tamburelli. Quindi c'è qualcosa delle feste per bacco? Eh sì, infatti tu hai seguito lo spettacolo e noi siamo un po' così come le ninfe, che è euforica come le ninfe, senza ubriacarci, però ce l'abbiamo di nostre. Poi ninfe perché alla fine siamo giovani. Quindi state peccando di hubris tutte e quattro. No, dai, noi non pecchiamo. Abbiamo l'adrenalina naturale, quindi... E avete mischiato il sacro al profano questa, sì. Sì, un po' di folk rock abbiamo... Vabbè, siete molto coreografiche comunque, quindi... Se volete seguirci www.ninfe della Tammurra.it ci sono tutti gli appuntamenti, le foto, i video, tutta la nostra storia, c'è tutto lì. E voi ragazze avete qualcosa da dire a San Paolo? Ha detto tutto lei.